Hanno dato la loro opinione sulla questione del biodigestore a Canavaccio e della sua possibilità di realizzazione, ma hanno parlato anche del consumo del suolo. E' quanto arrivato in conferenza stampa nella mattinata di oggi da parte dei Verdi. Sono stato invitato dai Verdi di Urbino che mi hanno parlato di uno scempio che avveniva in un'area stupenda. Sono venuto, ho fatto 4 ore di macchina e ne è valsa la pena. Perché ci troviamo, come potete vedere, di fronte a un paesaggio stupendo, caratteristico della storia del nostro paese, in particolar modo delle parche, che ha fatto come sfondo in molti dipinti del Rinascimento. Qualcuno vorrebbe realizzare qui un impianto industriale, un biodigestore, è un vero e proprio sfregio. Non siamo contro questo tipo di impianti, ma questi vanno fatti nelle aree industriali, dove ci sono i rifiuti. Non in queste bellezze che mettono a rischio il paesaggio, ma anche tutte le abitazioni limitrofe e anche l'agricoltura che ne viene esercitata. Una domanda che faccio. Perché proprio questo sito è stato scelto? Perché viene scelto un sito che viola le norme comunitarie europee sulle zone di protezione speciale? Perché se non so se lo sapete, questa è un'area che è protetta dall'Unione Europea. E allora perché è stato scelto questo sito? Una cosa è certa, noi Verdi a livello nazionale attiveremo il nostro ufficio legale per difendere questo pezzo di paesaggio della storia, non delle Marche, ma dell'Italia che va assolutamente tutelato. Siamo qui a Canavaccio per dire no al biodigestore anaerobico, perché questo non è un sito idoneo. Alle nostre spalle abbiamo potuto notare la grande bellezza di questi luoghi, i luoghi che hanno dato ai pittori del Rinascimento la loro ispirazione, che vengono ripresi in tutte le pitture più importanti del Rinascimento italiano. Non possiamo riconvertire queste zone ad aree industriali e quindi non possiamo costruire questi impianti in zone inidonee. Noi vogliamo che Urbino abbia uno sviluppo sostenibile, abbia un pilastro non sull'industria ma sull'agricoltura di qualità, ricordo che è il distretto biologico più grande d'Italia, sulla cultura, sul turismo, sul binomio cultura e agricoltura. Il sito è inidoneo e va detto un grande no. Voglio ricordare che abbiamo alle spalle le Cesane, che comunque è una zona tutelata, abbiamo di fronte il furlo, sono dei gioielli a livello internazionale per quanto riguarda il loro paesaggio e per quanto riguarda l'attrazione turistica che questi luoghi possono fare. Quindi mi auguro che il Comune torni indietro e che chiaramente liberi queste zone da questo progetto. Per quanto concerne Urbino deve puntare alla qualità e non certamente a questi progetti che invece hanno delle grosse ricadute negative, perché gli impianti si possono fare ma vanno fatti in discariche per riconvertirle, vanno fatti in zone industriali, in posti vocati per questo tipo di attività. Sono attività insalubri e come tali vanno trattate. Allora ci opporremo insieme ai comitati, insieme ai cittadini per dire no, ma non solo a Canavaccio, anche nel resto della città, se non si trova un sinidoneo che abbia queste caratteristiche noi non lo vogliamo. Anche perché voglio ricordare a chi ci ascolta, la maggior parte dei rifiuti vengono prodotti a Fano e a Pesaro, sulla costa, perché lì c'è la più grande antropizzazione per la nostra provincia. Non capisco se i rifiuti vengono prodotti sulla costa perché gli impianti per trattarli devono essere fatti nell'entroterra. Quindi vogliamo che la soluzione avvenga dove c'è il problema, non viceversa. Non dobbiamo arricchire nessuno, non dobbiamo fare nessuna speculazione, dobbiamo solo risolvere un problema ai cittadini. A nome del mio gruppo consigliare ho chiesto la convocazione del Consiglio Comunale. Ancora di più dico al Sindaco, al Presidente del Consiglio di convocare il Consiglio Comunale perché quello che è stato detto, cioè che il Comune ritornerebbe indietro sulla scelta di Canavaccio, noi vogliamo che sia messo a delibera. Quindi si convoca il Consiglio Comunale e si dica che il sito di Canavaccio comunque non verrà portato avanti l'insediamento. Se poi ci saranno altre proposte queste le discuteremo, ma intanto questa è la nostra priorità. Per il resto io penso che non solo Canavaccio sia tutta contro, ma anche il resto dei cittadini del Comune se vogliono fare questo impianto lo facessero sulla costa, perché sulla costa dove si producono la maggior parte dei rifiuti pesano 100.000 abitanti, fanno 60.000 abitanti, noi soltanto 14.000, quindi si faccia l'impianto dove provengono prodotti i rifiuti. Per il resto noi continueremo a lottare insieme con Canavaccio e con i cittadini, perché riteniamo che questo tipo di impianto sia dannoso e non possa essere collegato in queste nostre bellissime aree, dove qui abbiamo il Parco delle Cesane, questa è l'area bellissima, lì abbiamo la riserva del Furlo, qui non si può fare quel tipo di struttura.